presentiamo diciamo oggi dice meno di piatto oppure non diciamo la testa è comunque alla fine animale e carciofi animale che sono vitello di vitello mettiamo subito un curbuyon con acqua un acquacidula una foglia d'alloro e anche del pepe in grani e poi ci caliamo le animale nel frattempo facciamo la crema di carciofi alla crema di carciofi ci servirà della patata carciofi 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 ma tu dici carciofi carciofi facciamo la cipolla scotta qua sta acceso venuto per te per prenderti le pentole mettiamo dell'olio leggermente un po di sale cipolla così si appassisce subito tagliamo la patata fine così ci dà un po di densità e infine puliamo i nostri carciofi a questo punto vediamo poi che bollono le animale ma sono ancora morbide va bene così mentre lo chef pulisce le animale io continuo a insaporire tutti gli ingredienti all'interno della padella carciofi patate e cipolla lascio rosolare leggermente e poi sfumo direttamente con del brodo vegetale vedete bella pulita abbiamo tolto tutta la parte che non ci serve vedete visto i leccesi sono palmalosi non l'hai detto mai noi noi paresi che siamo la puglia condiamo adesso le animelle con del sale e del pepe intanto facciamo anche un piccolo trito di scalogno questo qui a differenza della cipolla di prima deve essere una un taglio molto fine perché non si deve bene qua ma si è un po lento prima la cottura degli animali adesso non sarà una cottura lunga quindi lo scalogno si deve appassire bene deve essere mangiabile le animale le infariniamo un po pasquale si pasquale ma tu cucina a casa sempre cosa prepara a casa di solito una pasta mista con piselli e guanciale come è venuta spettacolare intanto io vado a frullare la nostra crema di carciofi Pasquale mettiamo un po di olio dai nel frattempo pure io qua vado avanti Pasquale qua sta frittando con lo cinuala crema di carciofi qui abbiamo fatto delle chips di carciofi abbiamo tagliato molto finemente i carciofi tolti anche dalla barbetta e poi abbiamo li abbiamo fritti partendo da olio freddo olio di semi fino a renderle croccanti questi qua servono per dare quella parte croccante al piatto per fare i fenomeni no mamma mia animella che ti ho fatto faccio fare bella figura oggi mettiamo al centro la crema è la nota croccante del piatto un filo d'olio un po di timo la menta pure va bene eh è piatto è finito provatele buon appetito buon appetito è muta grazie a tutti